Ciao ragazzi, prima di iniziare a vedere questo video vi voglio raccontare un attimino come sono andate le cose. Mian amico Jonathan mi ha consigliato questo posto, siamo sul Sesia, un posto davvero bellissimo e me l'ha consigliato perché mi aveva detto che un suo cugino, se non sbaglio, aveva visto dei Siluri girare in zona. Una buona presenza ai Siluri. Allora ho deciso di venire a provare e niente, sono venuto, ho provato a Siluri, ho provato, riprovato, non si vedeva un pesce saltare. E allora niente, alla fine mi sono spostato, ho trovato questo correntone qua, mentre mi stavo portando nel punto dove volevo pescare ho visto un barbo che sarà stato 3 chili, 3 chili e mezzo a attraversarmi proprio davanti e allora mi si è accesa la lampadina e ho pensato di provare a svoltare la giornata tentando di insidiare qualche barbo. Quindi adesso vi lascio al video e buona visione. Ciao belli! Ciao! Ciao! Guarda che barbo! Guarda che barbo! non è la canna giusta, ma vediamo se riusciamo a arrangiarci in qualche modo. Guarda che barbo! Guarda che barbo! ecco 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 c'è 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 c' che con questa corrente tirarlo fuori oh bello bello guardalo qua guardalo qua eccolo dai vieni minchia che bestia è una corrente problema qua sono grossi mamma che sberla ragazzi che sberla fermo fermo dai oh porco can sta per un attimo dai ah in mezzo alle gambe è andato e qua ti tengo con le gambe adesso non riesco a tenerlo con le mani quanto è grosso mamma che grosso sei io che grosso sei vediamo se riesco a farti una foto adesso manca che va telefono in acqua e allora si che facciamo bingo io ho il telefono prima che lo mettiamo buttiamo a mollo lo slamiamo una meraviglia un treno vai falsatone ciao ragazzi oggi basta è finita sono stanco morto anche oggi comunque siamo riusciti a scapottare l'obiettivo non era il barbo ma va benissimo un bel barbo combattivissimo poi in quel correntone è stata una una lotta esagerata a tirarlo fuori comunque ce l'abbiamo fatta e quindi abbiamo scapottato va benissimo così e basta iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima avventura ciao belli ciao